a guadagnare 400 euro 400 euro facendo più progetti facendo più può arrivare a 600 400 euro e il marito anche se lavora perché si è sposato loro sono stati fidanzati molti molti anni 15 anni e non si decidevano a sposarsi proprio perché non avevano una garanzia però poi dopo hanno deciso perché lui ha un lavoro non è precario e fisso però guadagna pochissimo sui 1000 euro al mese e quindi andare avanti una famiglia tanto è vero che non vogliono avere figli per ora perché come si fa a portare avanti e quindi noi la sosteniamo anche in queste spese ma sosteniamo anche gli altri figli i due sposati che hanno due figli ciascuno perché anche se lavorano ma le mogli fanno anche loro precariato e portare avanti una famiglia con due bambini non è facile a volte non riescono a pagare le bollette noi dobbiamo sostenerle tutti e due insomma un po' di queste difficoltà poi c'è l'ultima l'ultima che lei è laureata ha 27 anni è laureata in scienze della comunicazione ha fatto già uno stage e un altro però ecco è stata chiamata ma non voleva aderire proprio per non pesare di nuovo sulle nostre spalle perché è venuta qui a Roma e quindi voi sapete mantenere una figlia fuori città fuori sede è una bella spesa e come no e quindi però noi abbiamo visto che era anche per il suo bene per una sua conoscenza un miglioramento e ci siamo accollati quest'altra spesa è un attimo sull'accollare no è solo un accollarsi una spesa economica bollette raste non so oppure accollarsi qualcosa di molto più anche più grande anche per sì sotto l'aspetto psicologico per dare sostegno psicologico per dare per incitarli perché oggi vedo che si avviliscono i giovani non tanto a parte le mie figlie ma con chiunque parla i giovani si avviliscono infatti statisticamente ci sono quasi il 20% dei giovani che non lo cerca nemmeno più il lavoro rinuncia a cercare il lavoro a fare i concorsi e incitarli a continuare è difficile perché come diceva mia moglie mettere una figlia che si è lavorata 5 anni fa si è preso già fatto 2-3 master psicoterapia l'ha chiuso per metterle nelle condizioni di parità per poter partecipare a un eventuale concorso o progetto per avere pari requisiti non è per essere assunta la situazione dal punto di vista dei giovani è abbastanza avvilente e non è che le prospettive in futuro diciamo siano come dire c'è speranza io noto che ottimamente i precari di oggi rispetto a quello del passato non hanno poca speranza in passato diceva i nostri figli vivranno meglio facciamo i sacrifici i nostri figli vivranno meglio oggi non lo possiamo più affermare talmente che avere che mia figlia che vorrebbe avere un figlio non può farlo subito perché la mia figlia sposata perché temono di non essere nelle condizioni economiche di poter fare quindi si in questo caso viene a essere toccata la famiglia questo tipo di lavoro indirettamente o direttamente non so come definirlo tocca la famiglia in quanto tale marito moglie figli e prole in questo caso veramente si dice che una rigregazione in futuro se si va diciamo avanti in questo indirizzo con questo modo di pensare del mondo del lavoro io sono totalmente si vede totalmente contrario al precariato come concetto perché non ha portato i risultati sperati che quando furono fatti le leggi a suo tempo dal 90 in poi non ha portato quei risultati che tutti speravano in effetti hanno portato un maggior precariato un mercato del lavoro con il costo del lavoro sempre a di basso poca introduzione dal mio punto di vista nel mercato di lavoro in forma stabile in effetti una guerra continua tra i giovani a chi riesce a collocarsi nel mondo dei lavori in maniera stabile questo poi mi dice la nostra mamma la mamma arrabbiata che ha scritto al Corriere della Sera nella sua lettera scrive ancora non siamo stati capaci di difendere il futuro dei nostri figli abbiamo creduto che bastasse aver conquistato certi diritti per avere la certezza che sarebbero durati all'infinito è una riflessione che fa è una duplice riflessione quella di questa mamma lo fa sulla realtà sulla società e anche su chi ha pensato che certi diritti fossero eterni così evidentemente non lo è stato voi ogni tanto vedete da casa delle carrellate si chiamano così queste facce di quei nostri giovani che sono qui in studio e che se sono qui non devo dirlo io ma forse è il caso di dirlo voi siete qui perché siete precari perché se aveste un lavoro sareste a fare il vostro lavoro e non sareste qui con noi con un sommo dispiacere da parte nostra perché siete una parte fondamentale per noi però siete qui per questo perché non c'è il lavoro per voi per i vostri studi sì allora questa è la prima risposta che ci prendiamo da questo pubblico momentaneamente silenzioso e come vedete credo che certe facce parlino più di mille parole dunque che cosa è successo che cosa ha rotto tutto questo ingranaggio quella mamma quella mamma arrabbiata è qui con noi la ringraziamo per quella lettera e per essere arrivata nel nostro studio Valentina Strada benvenuta e grazie 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 a voi grazie una mamma una giornalista che sceglie di rivolgersi nel giorno del trentesimo anno della sua figlia a un giornale sì allora io devo dire una cosa che io ho cominciato ad appassionarmi a questo tema negli ultimi anni in cui ho lavorato io adesso sono fortunatamente in pensione dico fortunatamente perché sappiamo tutti voi avete fatto una puntata bellissima l'altro giorno che ho seguito con grado interesse e sappiamo tutti che questi ragazzi la pensione ai noi non la vedranno quasi certamente negli ultimi anni dicevo in cui ho lavorato ho cominciato proprio a toccare con mano le difficoltà dei giovani nell'accesso alla professione giovani che poi diciamo così uscivano da scuole di giornalismo con tutti i titoli a posto tutte le competenze sicuramente più titolati rispetto alla generazione precedente certamente quando l'accesso alla professione non era così diciamo regolamentato e ho visto anche certo mancava loro diciamo l'esperienza sul campo però quella nessuno te la dà finché tu non ci provi e ho visto che per esempio con estrema facilità venivano impiegati per fare esattamente le stesse cose che facevano gli altri colleghi ovviamente senza avere nessun tipo di garanzia senza avere pari retribuzione per carità senza avere tutte quelle diciamo quei sostegni che ti permettono poi di progettare di sognare di sognare di progettare il tuo futuro questo titolo è suo lei lo sa il nostro titolo è suo lo so vi ringrazio e quindi dicevo ho cominciato ad appassionarmi a questo argomento e devo essere sincera in quel momento mia figlia studiava ancora e io mai avrei pensato che di lì a pochi anni appena laureata si sarebbe trovata in questa situazione così critica comune a molti giovani anzi dirò di più parliamo sempre di precariato giovanile non è vero il precariato ormai è trasversale perché riguarda i giovani riguarda gli ultratrentenni riguarda anche i 40 45 anni assolutamente con anche perché questo diciamo questa nuova regolamentazione del mercato del lavoro che è subentrata circa metà degli anni 90 poi nel 2003 mi pare con la legge Biagi si è ulteriormente consolidata in realtà non ha aiutato ha creato altra precarietà ha creato non ha contribuito a combattere il lavoro nero e posso dire perché comunque conosco abbastanza la situazione ovviamente conosco gli amici di mia figlia conosco i colleghi insomma conosco anche amici di figli di amici e quindi vedo che questi ragazzi hanno in comune appunto questa difficoltà e non solo la condividono ma non hanno neanche gli strumenti ed è questa la cosa che secondo me è più grave che dispiace di più sì non hanno neanche gli strumenti per far rispettare diciamo quel residuo di diritti quasi zero poco più di zero che hanno perché nessuno controlla che i contratti parlo soprattutto dei contratti a progetto che sono quelli maggiormente forse responsabili di avere creato precarietà sono quelli nelle nuove forme di contratti che insomma dove si viene chiamati addirittura anche per qualche giorno sì questi ragazzi non hanno la possibilità di non possono non vedono nessun tipo di controllo cioè io non so chi tocca se tocca all'Inps se tocca agli ispettorati del lavoro a chi tocca ma nessuno controlla che questi contratti siano congrui cioè che rispettino esattamente lo spirito della legge perché la legge voleva dare un'opportunità ai giovani avviarli al lavoro e soprattutto alla fine di un contratto non c'è nessuna garanzia che quello in qualche modo comporti una garanzia non ha alcun tetto di rinnovo può essere rinnovato all'infinito e si arriva al suo meno male che c'è il welfare della famiglia è chiaramente un meno male amarissimo questo che continua però anche le famiglie si stanno impoverendo è della sua lettera e non mi riferisco solo alle risorse economiche l'infelicità dei tuoi figli la loro impossibilità di pensare a domani con un minimo di stabilità la loro sfiducia la frustrazione quando non disperazione fa soffrire anche te ti condiziona ti deprime vive male si vive male tutti assolutamente quando in una famiglia c'è una situazione di questo tipo ho ascoltato la testimonianza dei signori di Pozzuoli di Antonio e di Anna Maria esatto e devo dire che concordo assolutamente con quanto hanno detto perché hai voglia a sostenere magari a sostenerli economicamente però la parte più come dire più difficile quella più critica è il sostegno morale perché quando anche uno avesse un centinaio o duecento euro in più al mese non è che gli risolve tanto la vita sì un pochino però lo allevia un po' però non è la cosa importante è il resto è proprio la quasi certezza di non poter progettare il tuo futuro che ti deprime ti stressa e stressa anche notevolmente le persone che stanno intorno a loro forse simbolo di tutto questo simbolo della precarietà è diventato un po' il call center ce l'hanno raccontato molti sorridono per cui forse un'esperienza che questa vita vi ha regalato o che avete subito qualcuno fa sì con la testa quindi il call center diventa il luogo della precarietà forse